Ma posso dire una cosa a cui tengo molto, a cui noi tutti teniamo molto? Nella nostra straordinaria orchestra che ringrazio di esistere, di esistere, che sono tra l'altro dei musicisti che hanno accompagnato un sacco di artisti Adesso si ritrova ad accompagnare me Ce n'è uno che è il maestro Danilo Riccardi al pianoforte Che non solo ha accompagnato Renato Zero proprio in quegli anni, negli anni di questa canzone Ma ha scritto le musiche di canzoni straordinarie solo per citarne alcune Nei giardini che nessuno sa La grande assente dedicata a Mia Martini Dimmi chi dorme accanto a me e tante altre Grazie Danilo A benvenuti, a benvenuti, a benvenuti Bravo maestro, bravo Abbiamo fior fior di maestri qui E poi anch'io ti posso accompagnare Grazie Magari